Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... Müller! Oggi vi voglio spiegare perché secondo me è così importante, perché secondo me è la tecnica più importante e perché un batterista deve conoscerla per forza. Ho già fatto un video sulla Müller Technique, lo so, non voglio ripetermi, anzi questa vuole essere un po' una continuazione del video di qualche mese fa. Comunque il video precedente ve lo lascio qui sopra in una scheda e in quel video cosa facevo? Praticamente in quel video andavo a spiegare proprio tecnicamente che cos'era la Müller. Qui più che spiegare la Müller, che appunto l'ho già spiegata, voglio spiegarvi a cosa serve, perché è importante e dirvi tutti i punti fondamentali di questa tecnica. Prima di dirveli però vi direi anche di iscrivervi al canale perché è una cosa molto importante, molto più della Müller. Se non siete ancora iscritti a questo canale mi raccomando iscrivetevi così da supportarmi, da supportare il canale, come vi dico sempre, non dimenticatevi, mi raccomando iscrivetevi, lasciate anche un mi piace qui sotto, se vi piace questo video, commentate dicendomi cosa ne pensate voi della Müller e comunque intanto guardate il video. Quindi come mettere in pratica questa Müller? Partiamo subito. Il primo vantaggio della Müller è sicuramente quello che riguarda la potenza. Il fatto di fare questo movimento qua con il braccio, con il gomito, ci permette di avere molta più potenza perché se pensiamo a un colpo normale, cioè un colpo di polso, faremo questo movimento qua e ok, va bene, sarà un colpo anche forte, ma nel momento in cui andiamo a dare un colpo facendo questo movimento e poi col colpo di frusta della Müller andiamo a impattare contro la pelle avremo un suono più potente e anche più pieno. Se noi facciamo un groove fatto solo di polso oppure andiamo a metterci la Müller è completamente diverso, sia per una questione di suono, magari non so se di lì si possa sentire la differenza di suono ma più che altro è proprio una questione di approccio diverso. Il fatto di utilizzare la Müller in questo modo nel momento in cui dobbiamo fare dei groove pop, dei groove rock, ci permette di essere molto molto più aggressivi. Anche per quanto riguarda il charleston accentato nei groove, ad esempio se dobbiamo fare groove con questo tipo di charleston in questo caso andremo a fare la Müller bassa, cioè quella di polso. Vi ricordo, se non sapete di cosa sto parlando, di andare a vedere l'altro video in cui vi spiego bene che cos'è la Müller e grazie a questo movimento di polso abbiamo la possibilità di dare dei colpi più forti e degli accenti senza fare una grande fatica. Pensate a fare questo groove che ho appena fatto senza Müller, si potrebbe fare perché sarebbe questa cosa qua. Ma è molto molto scomodo, molto stancante e non riusciamo ad arrivare o comunque dobbiamo fare troppa fatica per riuscire a suonare oltre una certa potenza diciamo. Uno degli aspetti più importanti ma più sottovalutati soprattutto all'inizio, quando mi capita di spiegare questa cosa agli allievi sono sempre un po' scettici, poi quando si capisce l'importanza di questa cosa cambia totalmente la questione, ma la Müller principalmente serve a preparare il colpo che andremo a dare dopo. Perché finché siamo a velocità basse non abbiamo nessun problema, ma nel momento in cui la velocità cresce dobbiamo andare a preparare il colpo che dovremmo dare dopo perché se no non abbiamo abbastanza tempo. Pensate a un paradiddle. Se io facessi un paradiddle normale, ve lo faccio qua sul charleston, a velocità bassa io posso fare e quindi fare tutto con i polsi. Nel momento in cui però la velocità cresce, io non riesco più a fare tutto con i polsi perché a un certo punto non è proprio possibile fisicamente, perché io faccio il paradiddle partendo con la mia mano forte, cioè la destra, mentre faccio la ghost con la mano sinistra vado a prepararmi per poi riuscire a dare il colpo di frusta e fare l'accento. Ovviamente poi la stessa cosa si farà anche con la mano destra dopo l'accento di sinistra. Quindi fatta questa velocità non serve più di tanto, potremmo farlo sempre con i polsi come ho fatto prima, ma man mano che aumentiamo la velocità, questa cosa che sto facendo col gomito, cioè il fatto di suonare la ghost, ma prepararmi per dare il colpo di frusta quando darò l'accento con quella mano con cui ho preparato il colpo, sarà fondamentale, perché non avrei proprio il tempo di fare il movimento con la bacchetta su e poi con la bacchetta giù come invece faccio col polso normalmente, quindi. Quindi il consiglio che vi do è nel momento in cui volete studiare la Müller prendete anche un qualsiasi esercizio con accenti e ghost e cercate di preparare l'accento. Quando si prepara l'accento? Si prepara nelle ghost prima, nel Paradiddle io ho una sola ghost, perché se penso appunto alla mia sinistra io darò accento di destra, ghost di sinistra, accento di destra e poi accento di sinistra, quindi questo significa che io avrò una ghost sola prima dell'accento, ma se io ad esempio voglio fare sei colpi con il primo accentato, allora cosa succederà? La sinistra farà sempre ghost, mentre la mia mano destra farà accento, ghost, ghost, accento, ghost, ghost. Quindi la mano destra farà questo e la mano sinistra andrà a infilarsi sempre tra ogni colpo di mano destra. In questo modo quando dovrò fare l'accento sarò qui come posizione e l'unica cosa che dovrò fare per fare l'accento sarà quella di tirare giù il gomito. Tirando giù il gomito e lasciando la mano morbida, senza perdere le bacchette, ma lasciando la mano morbida, succederà questo. E darò quindi il colpo di frusta della Müller. Questa cosa di cui vi ho appena parlato, cioè la questione di preparare un colpo, ci serve sempre. E ci può servire sia per suonare i groove, ma questa cosa fondamentale della preparazione dei colpi serve anche per un qualsiasi feel. Se noi pensiamo ad esempio a un feel tutto in sedicesimi, tutto sul rullante, in cui dobbiamo accentare una nota ogni tre, cioè questo. Dovremmo farla alla Müller, una volta con la mano destra, una volta con la mano sinistra, e verrà questa cosa, ve lo faccio sentire prima piano. Successivamente possiamo anche andare a modificare gli accenti, ma facendo sempre la Müller. La stessa e identica cosa vale per i tom. Nel momento in cui andremo sui tom o sui timpani, sarà la stessa cosa. Dovremmo sempre preparare il colpo con il nostro gomito. Io solitamente cerco di prepararlo verso il tamburo che poi voglio andare a colpire dopo. Quindi se io preparo con una ghost sul rullante e poi voglio andare sul tom, il mio gomito andrà verso avanti, perché il tom è avanti. Se voglio andare sul timpano, il mio gomito andrà verso il timpano, sempre proiettato in avanti, come la Müller vuole, ma un pochettino più verso il timpano. E così vale anche per la sinistra. Se io voglio andare sul chalestero andrò un po' verso sinistra, se voglio andare sul tom andrò avanti. Tutto questo per dirvi che quindi la Müller è una tecnica fondamentale, ma per chiunque, per qualsiasi batterista, qualsiasi genere suoni, bisogna sapere la Müller. Ma anche semplicemente perché la Müller ci permette di essere più fluidi, di tenere le bacchette più morbide in mano, senza doverle stringere tanto, e questo ci permette di suonare più rilassati e quindi di farci meno del male, di rischiare meno di farci del male. Poi comunque altra cosa che non è così importante, ma ci fa sempre, il fatto di suonare più fluidi, il fatto di fare movimenti più sinuosi, tra virgolette, ci rende anche un pochettino più belli da vedere, non robottini che suonano meccanicamente. Ehm, quindi basta, va. Direi che la finisco qua, vi ho già dato abbastanza, il video è già durato troppo e voi avete da fare. Così. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, mi raccomando se non siete ancora iscritti, cliccate sul pulsante iscriviti qui sotto, cliccate anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio e seguitemi soprattutto sui miei social, Facebook, ma soprattutto Instagram. Seguitemi lì che posto sempre un sacco di cose interessanti, ma almeno secondo me sono interessanti. Basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti